ciao ragazzi e benvenuti a una nuova recensione questa volta di un'opera appena uscita come avrete visto dal titolo sto per parlare di 1721 short stories di tatsuki fujimoto questo soprattutto la versione deluxe dell'opera e come sapete tutti tatsuki fujimoto è uno dei miei autori preferiti ho già letto firepunch e c'è insomma è che uno degli anime che è uno di manga più belli che vi ho letto di shonen jump ultimamente e soprattutto sono in grandissima attesa dell'anime che uscirà fra poco e quindi questa è un'iniziativa bellissima star comics che ci porta a vedere le sue prime storie dal 2017 al 2021 nonostante poi ci sia scritto che queste storie sono state scritte a più o meno dopo il 2011 a noi non ci importa e diremo che sono dal 17 al 21 e questa è la versione deluxe io so già che nel titolo avrò scritto confronto fra edizioni ma voi attaccate al cazzo non faccio vedere nessuna edizione perché semplicemente versione deluxe è l'unica edizione che esiste l'altra per poveracci io mica mica sono un poveraccio di merda come voi che non potete permettervi questa edizione deluxe qui scusate cioè dai edizione deluxe come si presenta vabbè è un bel cartonato più grande non credo sia 15x21 ma ci siamo quasi lì tutto bello ha tutte le scritte un po in una sorta di rilievo lucido anche al tatto mi piace molto dietro invece no è tutto opaco mi si è un po sporcato ma vabbè al prezzo di 10 euro 90 ma io l'ho pagato di meno perché perché me lo posso permettere ecco la copertina è molto bella un po bizzarro che sia centrata ma non in base a questo quindi abbiamo più spazio qui e meno spazio qui apparente un po strana questa cosa la seconda e la terza di copertina sono semplicemente la ripetizione di tazuki fujimoto short storage 17 e 21 e per il resto abbiamo il volume in sé zero pagine colori come si addice a una vera edizione deluxe il sommario che sta all'inizio e mi sembra giusto con le quattro storie due galline nel cortile sasaki ha fermato il proiettile l'amore cieco e shikaku quattro storie molto belle e non starò di cui non starò a parlarvi perché chi se ne frega delle storie e poi sotto sotto in fondo ci sono un sacco di editoriali cose importanti come appunto a fine di ogni storia c'è un commento dell'autore e alla fine c'è questa sua postfazione in cui lui dice a 17 anni non so che cazzo fare ho fatto un po il volontario però boh ero poveraccio non potevo fare dipinti a olio quindi facevo i manga e poi ho disegnato il look back che dovrei uscire fra poco voglio comprarlo appena esce e non so leggiamo direttamente se vi state chiedendo perché vi racconti tutto ciò la risposta che inizialmente lo contrario la pubblicazione di questa raccolta di short stories sì perché dover pensare al copertino di scrivere i vari commenti è una vera seccatura ma ora sono felice che si è stata pubblicata non male e poi abbiamo qua due pagine importantissime nel 2022 come leggere un manga perché dobbiamo essere come dire omnicomprensivi e pensare che c'è qualcuno che non sa come si legge un manga quindi se qualcuno apra qui veda questo e arrivi qui ma come faccio a leggerlo direi quasi che potremmo anche un po commentare questo ad esempio qua c'è anche un piccolo cenno di storia del termine l'origine della parola manga infatti la parola giapponese manga significa in origine immagini canzonatorie ormai da molti decenni il termine contraddistingue questo tipo di produzione chiaramente mi sento di fare un call back al maestro hashtag kirio codice pampling perché chiaramente chi ha che ha curato quest'edizione vediamo chi è stato la ridazione vabbè si non la ridazione claudia calzola e deo braccio coloni chiaramente sono state loro hanno letto anche mio nonno erano taku che è un libro ormai storico e hanno scritto hanno aggiunto hanno integrato questa parte qua che racconta cos'è un manga per farlo sapere a chi non lo sa è importante nel 2022 farlo sapere e quindi per quanto possa sembrare strano si tratta semplicemente di una caratteristica legata alla cultura e alla tradizione nipponica che è rimasta fino ad oggi inalterata nel paese del sol levante che per chi non lo sa si tratta del giappone sapete nihon vuol dire base del sole quindi proprio da dove sale il sole il primo paese secondo le fasi orarie è molto interessante procede la scrittura procede infatti da destra verso sinistra per cui libri quotidiani e riviste si leggono in questo senso osservando la copertina di pubblicazione nipponica dunque ci si trova con la legatura sulla destra le pagine libere a sinistra vediamo qua la copertina è nel posto sbagliato che strano non lo sapevamo e la stessa cosa viene dai più fumetti e niente panico quindi basterà procedere nella lettura di pagine vignette ballon da destra verso sinistra qua c'è un piccolo schemino molto importante vediamo che lo mettiamo a fuoco uno schemino che ci fa vedere la lettera occidentale si legge da qui a qui a qui e c'è tutto giapponese si legge da qua poi ci sono varie teorie che sono state studiate dai grandi artisti che sono come il flow della pagina il page turn le splash page ma sono tutte cose che io onestamente vi consiglio di andare a controllare nel libro del maestro chino abbiamo visto questa parte estremamente vitale all'edizione e qua abbiamo tutte le persone che hanno lavorato a questa edizione bellissima dell'axe mi ricordo è di studiare un po' di persone importanti poi il direttore generale che è Giovanni Bovini l'amministratore delegato che è il figlio Simone Bovini e la figlia che è la direttrice responsabile non direttore questo è uno scivolone non politically correct direttore direttrice responsabile editoriale Claudia Bovini poi publishing manager il POS che saluto tantissimo che è un grandissimo adoro le cose che ho fatto quest'anno specie le 500 mila edizioni di Kaiju Nambril che per me onestamente è lo scivolone rivelazione nel 2022 in Italia poi responsabile marketing Renato Franchi e supervisioni di Filippo Sandri uffici grafici queste cose non ci importano ufficio commerciale no 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 redazione abbiamo già visto la calzola la cioccoloni che di sicuro sono grandissime fan dell'operato del maestro Chirio anche noto come Maurizio Iorio traduzioni di Marco Franca grandissimo adattamento testi Chiara Antonozzi sfortunatamente non c'è di mezzo Gualtiero Cannarsi adattamento grafico di Fabio Bettazzi che di sicuro lavora molto meglio di quegli sfigati di J-pop che sono un po' dei polletti poi l'editore edizioni Star Comics possiamo richiedere i numeri arretrati anche se io li chiederai onestamente a qualche servizio più affidabile tipo manicomici distribuzioni e poi distributore esclusivo per le librerie ALI-SRL wow 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 e qua abbiamo le come dire le specifiche tecniche dell'edizione editoriali Tatsuki Fujimoto Tanpenshu Nanaju non mi ricordo in giapponese scusate sono un po' arrugginito 2021 by Tatsuki Fujimoto All Rights Reserved first published in Japan in 2021 by Suecia Tokyo Italian translation right in Italy San Marino Vatican City in Italian speaking Switzerland arranged by Suecia interessante questa è un'opera di funzione è un'opera di finzione importante perché dovreste sapere che effettivamente queste cose non sono davvero cadute nel mondo reale e ecco spero che questo video vi sia piaciuto è durato un po' più del solito ma perché sono stato voluto essere molto molto non pedante però molto completo nell'analisi quindi se vi è piaciuto mi lasciate un like scrivete un commento magari vi scrivete andate la campanellina così quando uscirà Tatsuki Fujimoto Source Stories 22 23 immagino sia al prossimo e vi possiamo parlare di nuovo perché poi a me questa edizione onestamente è piaciuta veramente tantissimo e cosa dire ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi